Mi chiamo Giuseppe, ho 20 anni e abito a Gagliate, in provincia di Novara. Nella vita aiuto mia mamma in pizzeria e il fine settimana suono con la mia band in giro. Suoniamo nei locali o nelle feste del paese. A volte capita di suonare anche qualche matrimonio, però siamo molto territoriali, diciamo. The Voice penso che sia un'occasione che non capita tutti i giorni. Da un certo punto di vista, no, diciamo da tutti i punti di vista è un sogno che sia vero, sì. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Stop your cry, baby, it's a sign of the time We gotta get away Oh, we gotta get away 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 I know that sometimes we don't agree with the public But with all respect, I think this is an applause for the fans of One Direction Because his interpretation has not added anything I realized that the public was arrested That was my part But I think it's okay The important thing is this Voi lo vedete, noi non lo vediamo Noi dobbiamo ragionare, ragioniamo e pensiamo su quello che è semplicemente la sua voce Era bravo, ma a noi serve un calcio nelle palle, non un grattino sulla schiena, ragazzi Diciamo che non è stato fortunato il ragazzo È vero È bravo È bravo, indubbiamente bravo Comunque mi piace il pubblico così Bravi Lo dico